Consegnati nella mattinata di venerdì 10 marzo due defibrillatori che saranno posizionati nella palestra delle scuole elementari di via Pullino e nella struttura sportiva di via Roma. Le apparecchiature salvavita sono state acquistate dal comune e in ottemperanza al decreto Balduzzi saranno a disposizione del personale scolastico e delle associazioni sportive nella malaugurata situazione in cui dovesse verificarsi un'emergenza. Siamo qua nella palestra che abbiamo appena ristrutturato, che l'abbiamo consegnata all'inizio dell'anno per fare la consegna di due defibrillatori. Sono due defibrillatori che speriamo non servano però all'occorrenza sappiamo che sono a disposizione. Sono apparecchiature che il decreto Balduzzi aveva già determinato entro la fine del 2016 l'obbligo di averle nelle palestre nei locali affollati. Adesso la prologa è scattata a giugno, noi abbiamo anticipato giugno. Speriamo che non vengano utilizzati da parte di nessuno però come ho detto all'occorrenza le palestre comunali sono fornite e quindi per tutte le associazioni che utilizzeranno le palestre sarà uno strumento in più per far sì che non succeda mai qualcosa di irreparabile in un momento di attività fisica. La Croce Rossa italiana è da sempre attenta all'educazione sanitaria e quindi è contenta di questo dono del comune alle palestre comunali del defibrillatore. Il Comitato Locale di Castellamonte organizza tutti i mesi dei corsi per l'utilizzo del DAE che durano 4 ore e forniscono una certificazione agli esecutori. La consegna del defibrillatore è un atto importante e conclusivo della sistemazione della palestra. Adesso è garantita anche la sicurezza con questo strumento salvavita ma non è l'unico aspetto positivo di tutta la vicenda che inizia l'anno scorso con la ristrutturazione della palestra, la nuova pavimentazione, il nuovo riscaldamento, le uscite, i bagni anche per i disabili. Avere un defibrillatore dà maggiore tranquillità nelle attività didattiche e sportive della nostra scuola. Quindi un applauso al comune.